Queste piccole meraviglie sono degli zuccottini ed io amo prepararli in modi diversi Oggi però Massimiliano, maestro della scuola del cioccolato perugina, vi mostrerà la sua variante Certo Sonia, le facciamo al triplo cioccolato Dalla crema alla base, passando per la glassa e le decorazioni, la parola d'ordine è proprio cioccolato Vuoi scoprire come prepararli? Allora iniziamo Mentre Massimiliano prepara i suoi strumenti del mestiere, io invece mi dedico all'impasto degli zuccottini Quindi metto gli albumi dentro ad una planetaria munita di fruste Aziono la macchina e poi poco alla volta unisco metà dello zucchero Faccio la stessa cosa anche con i tuorli Li metto in una ciotola, unisco la metà dello zucchero e monterò anch'essi Grazie a tutti! I due composti sono pronti Trasferisco il composto di tuorli e zucchero negli albumi Li amalgamo E poi unisco la farina setacciata E il cacao amaro in polvere, dal gusto intenso Ora posso incorporare tutto molto delicatamente Una volta pronto metterò il composto dentro una sac à poche Ecco i miei stampi, hanno un diametro di 8 cm Taglio la bocchetta e inserisco il composto Metto lo stampo sulla leccarda e posso infornare il tutto a 180 gradi Forno statico preriscaldato per circa 30 minuti Per preparare invece la crema di ripieno ai miei zuccottini Ho messo sul fuoco in un pentolino panna e latte Li porto a sfiorare il bollore Nel frattempo io invece mischio i tuorli delle uova Con dell'amido di mais E dello zucchero Mischio tutto In questo modo scioglierò gli eventuali grumi anche dell'amido di mais E ho ottenuto una bella crema liscia Che vado ad aggiungere in pentola Spengo il fuoco Mischio bene Accendo di nuovo il fuoco, un fuoco molto dolce E mescolo finché il composto diventerà una bella crema Ecco la crema è densa Aggiungo del cioccolato fondente extra che ho precedentemente tritato E mescolo finché non si sarà completamente sciolto E' pronto Lo verso in una ciotolina Copro la crema a contatto con la pellicola In modo che non si formi la crosticina dura La lascio raffreddare E poi la posso mettere in frigorifero Per renderla completamente fredda E una volta pronta posso metterla in una sac à poche Ecco i miei zuccottini Sono pronti e sono freddi Devo scavarli Quindi prendo un colpellino E traccio un taglio così Circolare Lasciando un centimetro dal bordo Tolgo la parte interna Però mi serve un tappo Perché adesso dovrò riempire con della crema Ma poi tappare Quindi uso proprio la parte finale Tagliandola ovviamente un po' meno spessa In questo modo Vado a prendere la crema Che è nel frigorifero Nella sac à poche Rimetto il tappo Continuo così fino a terminare Tutti i miei zuccottini E una volta finiti Li metterò in frigo a riposare Per una mezz'oretta E ora di preparare la glassa Che servirà per ricoprire I nostri zuccottini Metto quindi in una pentola L'acqua La panna Lo zucchero E il cacao amaro in polvere Accendo il fuoco Mescolo bene Fino a far sciogliere tutti gli ingredienti Il composto sta bollendo Quindi posso spegnere il fuoco E aggiungere La colla di pesce Che ho fatto ammorbidire in acqua molto fredda E adesso vado a strizzare E a inserire All'interno del mio composto Come hai visto Si è sciolto in pochi secondi Devo passare il tutto Dentro ad un setaccio A maglie molto fini E poi lasciarla raffreddare Deve arrivare all'incirca Sui 30-32 gradi Per avere la giusta densità Per poi rivestire I miei zuccottini Per controllare la giusta temperatura Ti puoi aiutare con un termometro alimentare Ecco i miei zuccottini Che vado a mettere su di una gratella Perché li devo ricoprire Con la salsa di cioccolato La gratella è posta Sopra ad un piatto In modo che la salsa Possa colare sul piatto E poi può essere riutilizzata Rivesto tutti gli zuccottini E poi li metto in frigorifero A rassodare Per una mezz'oretta Massimiliano Come mi avevi chiesto Ho sciolto cioccolato al latte E cioccolato bianco Brava Serviranno per fare Le decorazioni dei nostri zuccottini Facciamo subito le decorazioni Perfetto Asciughiamolo Asciughiamolo Perché tu mi dici sempre Che l'acqua all'acqua Assolutamente Mai nel cioccolato Mai Ora Farò il temperaggio del cioccolato al latte E ne colo due terzi circa Sopra questo piano di marmo sintetico Oggi sto utilizzando questo Certo Logicamente Tutte le persone che vengono a frequentare Un corto da noi Alla scuola del cioccolato perugina Quando tornano a casa Possono utilizzare Sì marmo sintetico O del marmo normale O basterebbe la teglia del forno Capovolta Pulitissimo ovviamente Certo Ok Certo Beh è una bella idea Bellissimo Quella ce l'hanno tutti Quella ce l'abbiamo sì Lo allargo Lo riporto al centro Che cosa stiamo Che cos'è il temperaggio Che è un raffreddamento Cristallizzazione sarebbe Rapida del cioccolato Io dovrò raffreddarlo rapidamente E portarlo a 29 gradi Questo perché è al latte Altrimenti Fondente sarebbero stati 31 gradi Ok E il bianco? Due gradi in meno 27 Tutti hanno un grado di tolleranza Ah in più o in meno? In più o in meno Ok Il metodo migliore per sciogliere il cioccolato È il bagnomaria? Noi Ho visto che anche tu Se hai utilizzato il bagnomaria Sì Più dolce E anche alla scuola Utilizziamo il bagnomaria Ma perché? Perché a casa Due pentole Le troviamo Certo Il forno a microonde È il secondo metodo Non è pericoloso? No assolutamente Il forno a microonde È velocissimo Ma a che temperatura? Io vado sempre Con una media potenza Potrebbero essere Dai 600 E 750 watt La cosa L'unica cosa Che vuole il forno a microonde È Mescolami spesso Ah Quindi Non lo accendo mai Per più di un minuto Apro il forno Mescolo il cioccolato E lo rimetto all'interno Per un altro minuto Quando il cioccolato Sarà liquido Lo spegniamo Perché? Perché poi dobbiamo Raffreddarlo Quindi Vero Ma chi viene Alla scuola del cioccolato? Vengono persone Di ogni professione E provenienza Da tutto il mondo Anche età? Anche età Davvero? Abbiamo tantissimi giovani Abbiamo una percentuale Anche maschile altissima E Non è mirata Al professionismo Sono corsi Che durano Da un'ora Fino a un massimo Di quattro ore Cioè E' la differenza Con le altre scuole Esistenti E' un luogo unico Diciamo In Europa Nel mondo Perché tu vieni Per lavorare il cioccolato A livello alto Professionale Ma lo vuoi fare in casa Certo Questa è la differenza Quando poi torni a casa Vuoi poterlo ripetere E puoi fare di tutto Bene Io ho raccolto La parte Che secondo me Si era raffreddata Ok Quando ho visto Che era diventato Un po' più cremoso Ho pensato Secondo me può bastare L'ho raccolto E l'ho rimesso In quella piccola parte calda Ok Che avevo Ora servirà il termometro Andiamo a misurare Se io adesso mi accorgo Che il cioccolato È troppo caldo Quindi supera I famosi 30 gradi Bisognerà Riversarli un po' E finire il temperaggio Ah Rifare come prima Al contrario Se fosse troppo freddo Lo riscalgerò In questo caso Visto che abbiamo L'acqua calda 3 secondi Nell'acqua calda Lo aggiustiamo Lo sistemiamo O in più o in meno Andiamo ad aggiustarlo Ok E adesso Possiamo fare Tutto quello che vogliamo Noi oggi Come dicevi tu Faremo le decorazioni Ma io avrei potuto Anche colarlo In uno stampo da cioccolatini Certo Qualsiasi cosa Qualsiasi materiale Plastico per alimenti Prendo Un foglio di acetato Lo appoggiamo qui Mettiamo un pochino Di cioccolato In un lato Anche se abbondante Non fa nulla Poi Sonia Ricordiamoci sempre Che tutto il cioccolato Che ci rimane Sul tavolo Sulla spatola Sulla raschia Baserà farlo raffreddare Raccoglierlo E scioglierlo La prossima volta Certo Non si spreca niente Niente Prendo un pettine Da pasticceria E tiro Delle righe E adesso Lo arrotolo Lo arrotolo Su se stesso Ah Fai un cilindro E lo blocchiamo E lo blocchiamo con un elastro Certo Lo mettiamo ad affreddare Ok In frigorifero In frigorifero Per accelerare i tempi Utilizziamo il frigorifero Perché noi abbiamo sempre fretta Va bene Porto in frigorifero Grazie Grazie Eccomi Massimiliano Guarda che belli Bellissimi sono Lucidissimi Cominciamo A completare La nostra opera Metto due belle sfoglie Sul piatto E poi diamo Un tocco di dolcezza In più Allo zuccottino Questo è il cioccolato Che abbiamo appena grattugiato Che bello Bene Quindi prendo Cioccolato bianco temperato E diamo Un tocco di bianco Sulla cima Ora Sonia Sai Mi servirebbero Gli anelli di cioccolato Che abbiamo messo in pico Perfetto Eccoli qua Grazie mille Vediamo se sono pronti Sembra un gioco Sì È un giochino Come lavorare con il cioccolato E lavorare con il cioccolato È un gioco È divertentissimo Ed ecco i nostri enelli Vedi Sonia come si sono staccati bene È rimasto lucido Sì Se non avessimo temperato il cioccolato Sarebbe rimasto attaccato Nel foglio di acetato per sempre Certo Immagino Non sarebbe così croccante E lucido Assolutamente Beh Similiano Ma è proprio un triunfo di cioccolato Sì Io guarda Però mi manca qualcosa Io lo so Tu ci metteresti qualcosa in mezzo Qualcosa Dai Il tocco finale Un bel tartufo Wow Un latte Beh è davvero bellissimo E mentre noi terminiamo Di decorare gli altri zuccottini Vediamo insieme gli ingredienti Che occorrono Per preparare questa ricetta Ingredienti zuccottini al cioccolato Per 5 zuccottini 100 g di albumi 50 g di tuorli 100 g di zucchero 80 g di farina 00 20 g di cacao amaro in polvere Per la crema pasticcera al cioccolato 100 g di latte fresco intero 25 g di panna fresca 35 g di zucchero 2 tuorli 12 g di amido di mais 40 g di cioccolato fondente Per la glassa 150 g di acqua 120 g di panna fresca 175 g di zucchero 65 g di cacao amaro in polvere 6 g di gelatina in fogli Per la decorazione 10 sfoglie di cioccolato fondente al 70% 240 g di cioccolato bianco 240 g di cioccolato al latte 5 tartufi al latte Scoprire il cuore morbido e goloso di crema Sarà una vera gioia per il palato Questi truccottini al tribulo cioccolato Sono una gioia anche per gli occhi Le loro raffinate decorazioni Faranno scedere anche l'ospite più difficile Cucinali anche tu E fammi sapere se ti sono piaciuti Grazie a tutti 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 Grazie a tutti